Buona Pasqua a tutti voi e bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Oggi l'instabilità si focalizzerà soprattutto al centro-sud e in particolare lungo l'Appennino e regioni adriatiche. Le temperature caleranno vistosamente dopo il caldo dei giorni precedenti e ci sarà maggiore ventilazione che accentuerà la sensazione di clima più fresco. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 16 aprile. In mattinata nuvolosità in graduale intensificazione con primi rovesci e qualche temporale a partire dai settori settentrionali della Puglia. Nel pomeriggio estensione e intensificazione dei fenomeni anche al resto della regione con rovesci che insisteranno fino al tardo pomeriggio sera, specialmente sulle zone interne di Puglia e Basilicata. Più al riparo invece il Salento e aree costiere ioniche. Come possiamo notare dalla grafica le temperature risulteranno in sensibile diminuzione ovunque. I venti deboli o moderati inizialmente meridionali ma con tendenza a disporsi da ovest-nord-ovest. Mari da poco mossi a mossi. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Pietro Carnevale che ci regala lo spettacolo al tramonto del sole che si tuffa nel bellissimo mare di Rodi Garganico. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle email che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Tutto lo staff Meteo One e Teleappula vi rinnova gli auguri di una buona Pasqua. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.